Ciao ragazzi, sto facendo questo video per dirvi che io sono mezzo Ucraina e mezzo Russo e questa guerra non mi piace. Quindi se nei commenti dicete, non sono parte dell'Ucraina, non sono parte della Russia, a me non mi interessa. No, mi risponde, vi dico solo, io faccio parte di tutti e due, voglio la pace. E poi niente, e voglio dirgli anche di iscrivervi, anche di lasciare un like e iscrivervi al mio canale, perché mi serve tanto. Piano piano sto facendo video ancora più divertenti, anche faremo la 100 tiri, la 50 rigori challenge, quindi mi supportate. Quelli, quelli che vogliono, quelli che escono nei miei video, a me cliccate per vedere, a me lasciate un like, iscrivetevi al canale, perché nessuno ancora non si è iscritto. A me non le vi visualizzazioni le avete lasciate, però niente iscritti e niente like, per favore lasciatevi. E vi voglio dire, anche nella mia scuola, c'è una bambina di prima, Calcranco, decide operare a Roma. E noi stiamo aiutando, e anche voi facete, aiutare le persone quando ne hanno bisogno. E non inquinate, e lasciate la terra vivere, se no non tutti moriremo, nessuno esisterà nella terra. Quindi fate bravi con la terra, state buoni, no cattivi. E questo era un messaggio che volevo dirgli. E domani andrò con il terzo episodio, del terzo episodio della carriera con il Sassuolo. Che finora, che durerà sempre 14 minuti, 14 minuti, oppure 15, farò tanti episodi, circa 20, 21, fino all'anno. E poi, in questa settimana, faremo anche, faremo anche, con mio fratello, faremo 20 tiri a ciascuno, che ne fa di più, vince. E come premio, si metterà, non lo so, niente. E poi, lasciate like, iscrivetevi sempre. Almeno, in questa settimana, ci devono essere almeno uno o tre, uno, due o tre iscritti. E ci devono essere, ci devono essere anche almeno 5 like, in ogni video. Vi prego, aiutatemi. Che io, sono ortodosse. Però, faccio parte di Dio. Faccio parte di Dio. E sono quasi cristiano. Perché a scuola faccio religione, però non vado in chiesa. E vi sto dicendo, iscrivetevi. Adesso vi faccio vedere, la mia famiglia. La mia famiglia. Aspetta, che sarebbe questa qua. Mi mamma. Che si chiama Gianna Miranzo. E poi, non vi dico i nomi. Si chiama, non vi dico i nomi. Lasciate like. Ciao. Ciao.